Allora siamo da Riccardo Bardi, l'azienda è La Staffa, siamo venuti a trovarlo qui su uno dei suoi appezzamenti che poi Riccardo adesso ci spiegherà di cosa parliamo. Grazie, benvenuti a tutti quanti. Siamo nel comune di Staffolo, nei castelli di Iesi, dove ci troviamo adesso è il vigneto del Selva di Sotto, è il vigneto più alto del comune di Staffolo, siamo a 500 metri sul livello del mare in una zona molto particolare perché come dice un po' il nome Selva, Selva di Sotto, tutto intorno a questo vigneto c'è un bosco è una zona molto impervia, molto ripida, con dei terreni molto particolari perché abbiamo argilla e calcare ma abbiamo tantissima, una grande presenza di roccia arenaria e la roccia arenaria rende ovviamente il terreno un po' più povero e dà dei vini con particolarissima mineralità. Ma questo vigneto a che epoca risale? Cioè di quanti anni è? Questo vigneto è del 74, quindi è un vigneto impiantato negli anni 70, è un vigneto di cui abbiamo abbastanza informazioni perché la persona che l'ha piantato e l'ha custodito per tanti anni, è mancata pochi anni fa, io la conoscevo benissimo quindi so come lo piantarono, i lavori che fecero. È un vigneto che ha una storia un po' particolare perché è un vigneto fatto in una zona dove difficilmente si sarebbe fatta vigna perché è molto ripido e perché c'è una grandissima presenza di pietra che per la testardaggine delle persone che possedevano questo vigneto e che hanno impiantato questo vigneto grazie a questa testardaggine oggi abbiamo una delle vigne più belle dei castelli di Iesi per l'altezza, l'esposizione e il risultato che viene fuori perché vengono dei vini veramente particolari. Cioè ma il microclima qui a parte il bosco che sicuramente creerà delle condizioni anche di freschezza abbastanza importanti ma le vigne come sono? Cioè nel senso che non sono soggette al mal dell'esca, a malattie? Allora il microclima è molto particolare perché siamo in una zona come diciamo molto ripida in fondo tutto intorno c'è il bosco e in fondo c'è un ruscello, un corso d'acqua non ho un ruscello, un corso d'acqua e quindi è normalissimo durante le sere soprattutto nelle stagioni più calde come oggi che siamo a giugno se ci troviamo in mezzo al vigneto la sera si sente sempre un'aria fresca, una brezza fresca che sale dal basso verso l'alto e che è molto importante per mantenere la pianta fresca e per quando ci sono problemi di umidità asciugare l'umidità e ovviamente essendo un vigneto degli anni 70 o comunque essendo un vigneto di 50 anni quasi ha sempre un po' di problemi di mal dell'esca perché è normale purtroppo un po' per come si potava quindi tra un po' lo spianti e ci metti altra roba no in realtà no, questo lo conserviamo in maniera come tutti dovrebbero i vecchi vigneti lo conserviamo in maniera appassionata e cerchiamo di mantenere in vita il più possibile infatti quando le piante non riusciamo a salvarle dal mal dell'esca vengono tolte e vengono rimpiazzate nuove piante che cerchiamo di riportare in produzione con tanta cura invece quando riusciamo ad arrivare in tempo come nel caso di questa pianta si va a fare una pratica che si chiama dendrochirurgia in poche parole il mal dell'esca è un po' come fosse facciamo un paragone con l'essere umano un po' come fosse un cancro, un tumore va individuato, la pianta va operata e si va a cercare di togliere il più possibile questo marciume questo legno marcio che viene causato dal mal dell'esca se si riesce a pulire bene come in questo caso questa è una pianta operata un paio di anni fa la pianta come vedete è perfettamente in salute ha pochissima uva in questo caso solo perché è stata colpita da gelata primaverile è molto forte in questa zona perché appunto siamo molto in alto e qui il freddo è girato è girata un pezzo di aria fredda proprio in questa zona qui tutti i vigneti in questa zona sono stati colpiti fortemente quindi poca uva perché i germogli di seconda mandata non hanno quasi mai uva nel verdicchio però è una pianta che sta perfettamente in salute con tantissima parete fogliare verde quindi è sicuramente un qualcosa di ottimo per mantenere un vigneto vecchio ma anche un vigneto giovane perché purtroppo anche un vigneto di 10-15 anni inizia oggi ad avere in generale grandi problemi con il mal dell'esca è una storia molto lunga, non si sa bene fino in fondo da che cosa venga spesso e volentieri si dà colpa anche al materiale che viene dal vivaio quindi agli innesti, alle gemme perché spesso e volentieri si trovano problemi di mal dell'esca anche in impianti molto giovani di 4-5 anni inizia già a avere quindi da quello che ho capito con la gelata che ha un po' diciamo così imbedito la crescita di queste uve il Selva di sotto quest'anno non ci sarà? no, quasi sicuramente no il Selva è un vino che nasce solo in alcune vendemmie già di suo cioè già come idea concettuale non è sempre prodotto in una vendemmia dove già sappiamo adesso che nel vigneto c'è pochissima uva sarà quasi impossibile produrlo quest'anno purtroppo però siamo contenti perché è stato prodotto nel 19 ed è stato prodotto nel 20 non era mai successo di farlo in due anni di fila sono state entrambe due bellissime vendemmie quindi mi dispiace sapere già di non poterlo produrre nel 21 ma avere due annate consecutive veramente buone ci dà quel giusto sprint cioè ma le differenze tra il Selva di sotto e Ringrocca che è l'altro vigneto storico sempre quello quasi di 50 anni che tu hai nel tuo patrimonio invitato come si differenziano? Allora Ringrocca è una vigna del 72 quindi sono quasi coscritta, hanno più o meno la stessa età Ringrocca siamo a Contrada Castellaretta sui 400 metri quindi siamo quasi 100 metri più in basso di dove siamo oggi Contrada Castellaretta sempre a Staffolo è un vigneto molto particolare perché in quel caso lì è un impianto fatto con innesto in campo ed è un policlonale quindi all'interno del vigneto del Ringrocca abbiamo individuato negli anni 5 cloni almeno di Verdicchio che popolano quel vigneto lì abbiamo argile e calcare come terreno è un terreno più generoso, un po' più ricco e un terreno che ha moltissima sapidità perché siamo in Contrada Castellaretta e c'è tanto carbonato di calcio nelle argille quindi un vino che tendenzialmente ha una sua espressione molto definita magari con degli aromi e delle piacevolezze più da Verdicchio tradizionale passatemi un po' il termine mentre qua a Selva di Sotto siamo molto in alto abbiamo questo terreno ricco di sasso, di pietra viene un Verdicchio il terreno ci dà un Verdicchio leggermente più esile più elegante, più sottile è giocato tantissimo sull'evoluzione degli aromi quindi è un vino che già di per sé esce 3 anni dalla vendemmia esce dopo 3 anni dalla vendemmia ma il suo esplua più bello ha 5-6-7 anni dalla vendemmia quindi è un vino che anche il Ringrocca riesce ad evolversi tantissimo nel tempo ci mancherebbe ma partono a due punti di partenza molto diversi dico sempre che per capirli bisogna assaggiarli e quando uno ha il bicchiere in mano riesce subito a capire la differenza volevo arrivare a questo infatti penso che è il caso di andare ad assaggiare anche perché non ci piangemo addosso se non abbiamo il 21 abbiamo il 19 e il 20 per cui possiamo iniziare da lì sì sì assolutamente tranquillamente grazie Riccardo per la tua disponibilità grazie mille